Si terrà nel Teatro Comunale Nino Saraceni a Fossacesia il corso di cinematografia con il regista Tony Paganelli, proposto da Assoeventi. Alla presentazione il sindaco Enrico Di Giuseppe Antonio, l'assessore alla cultura Maura Sgrignuoli, l'assessore Giovanni Finoro. Il corso avrà la durata di due anni. Camillo De Romano, presidente di Assoeventi, l'associazione che promuove questo corso di cinematografia. Come è nata l'idea? L'idea viene dopo tanti anni di esperienza nel campo della moda, delle miss. Molte ragazze sentono la necessità di fare cinema, anziché portare loro a Roma. Ho portato Roma qui in Abruzzo. La cosa bella di questo progetto è che non è rivolto soltanto alle modelle, ma è aperto a tutti, ragazzi, ragazze, persone mature. E soprattutto ho sposato la causa della scuola di Tony Paganelli, perché ci siamo conosciuti due anni fa su un set, dove ero protagonista anche io, nel suo film. L'idea è stata quella di voler portare qualcosa di nuovo, anche qui in Abruzzo. Di nuovo, non è nuovo, ci sono anche altre scuole, però volevamo fare un qualcosa di diverso, dove apriamo le porte un po' a tutti. E fosse cesa, lo devo ringraziare, perché Enrico e l'assessore Maura Sgrignoli hanno sposato la nostra causa. Quali sono le caratteristiche di questo corso? Ne parliamo con un personaggio di fama, il regista Tony Paganelli, che insieme a qualificati i personaggi porterà avanti il corso. Sì, esatto. Allora, le specifiche sono molto semplici. Infatti noi non ci chiamiamo scuola, ma corso, professionale di cinema, perché la nostra peculiarità è formare ragazzi, persone di qualunque età, a fare veramente l'attore. E noi, a fine di ogni corso, facciamo dei cortometraggi che portiamo poi ai festival in giro per tutto il mondo. Infatti abbiamo vinto diversi premi e questo per dimostrare che anche l'allievo, se preparato bene in un determinato modo, può raggiungere anche un risultato importante. Francesca Brandi, volto noto, inizia come modella, poi diventa attrice, presentatrice ed è qui a Fossa Cesia. Sì, sono qui a Fossa Cesia. Ringrazio Camillo dell'associazione Asso Eventi. E con lui, infatti, stiamo programmando e progettando degli eventi per la prossima stagione, della quale, d'altronde, come potete ben capire, non possiamo dire tanto. Guardando lei, il pensiero va subito al Paradiso delle Signore, alle Tre Rose di Eva, all'esperienza appunto delle fiction. Sì, una bellissima esperienza, la fiction anni Sessanta, che va in Rai tutti i giorni. Questo ambiente comunque composto, no? È un ambiente d'altri tempi, dove rispecchia appunto molto il mio modo di essere. Sindaco Enrico Di Giuseppe Antonio, dunque, anche un corso di cinematografia a Fossa Cesia. Fossa Cesia è sempre città aperta. Sono davvero contento e abbiamo accettato con immenso piacere l'iniziativa dell'associazione e la presenza di attori, registi e attrici che daranno vita ad una formazione al cinema. Io mi auguro che ci siano molti abruzzesi che possano ovviamente varcare la soglia del cinema, che è un'importante parte della nostra cultura. E poi speriamo che allontani la pandemia questo corso.